E' prevista per domenica prossima al Cineteatro Antidoto di Gela la terza edizione del Meeting del Mediterraneo, promosso dal coordinamento delle opere, l'associazione che riunisce varie realtà legate al movimento giovanile Macchitella. Il tema che sarà affrontato è quello delle nuove frontiere geopolitiche e culturali del mondo contemporaneo. Appuntamento previsto per le 10, si dibatterà sulla questione migranti alle 12.30, sarà celebrata la messa nel pomeriggio, riprenderanno i lavori. E' prevista la partecipazione tra gli altri di Vincenzo Barretta, ex manager di Luxottica. Vogliamo che la città di Gela attraverso questo evento, questa particolare giornata d'incontro, diventi un punto di riferimento per tutto il territorio siciliano. Stiamo lavorando proprio in questo senso, stiamo lavorando per far sì che nell'arco di un anno solare ci sia un momento d'incontro trattando tematiche sempre importanti e che interessano l'intera nostra regione. Le scorse edizioni abbiamo parlato di imprenditoria, l'anno scorso della questione Eni. Quest'anno i temi sono più ampi, abbiamo una giornata che è totalmente dedicata a varie tematiche che verranno affrontate da diversi relatori di spicco. Questa edizione del meeting vuole affrontare il tema delle frontiere e vuole prendere questo tema e sviscerarlo sotto diversi punti di vista. Il titolo è proprio non nuove terre ma nuovi occhi. Affronta il tema sotto il punto di vista politico e geopolitico, quindi la questione migrante e culturale, ma anche dal punto di vista economico, quindi le nuove frontiere e l'economia. E noi un territorio come questo, Gela, che vive la crisi di una grande industria, si ritrova a dover avere a che fare con le nuove frontiere, l'economia e lo sviluppo in territorio. Ma vuole essere anche un tema culturale, quindi le nuove frontiere nell'approccio artistico e della comprensione artistica che l'uomo ha della realtà. Invitiamo tutti i ragazzi, tutti i giovani, tutti gli anziani, i bambini a partecipare a questo momento che vuole essere un momento di incontro tra persone, vuole essere un momento di confronto e di stimolo culturale per la città.